Allarme nelle tv locali per la nuova rivoluzione nelle frequenze che in Veneto dovrebbe arrivare a settembre. La legge di bilancio del 2018 stabilisce la vendita all'asta delle frequenze per la diffusione della tecnologia 5G, che ha fruttato 6 miliardi e mezzo nelle casse dello Stato. Ciò comporta la necessità di liberare quelle frequenze e trasferire il sistema radio televisivo nazionale e locale su quelle rimaste a disposizione, cosa che rischia di mettere in crisi il sistema dell'emittenza locale, ad esprimere preoccupazione il sindacato dei lavoratori della comunicazione. Noi abbiamo segnalato che l'informazione locale e le televisioni locali sono importantissime sul nostro territorio, in Veneto in particolar modo, e che questa grande trasformazione tecnologica che ci aspetta a settembre deve essere preparata per tempo. Dobbiamo essere certi che le televisioni come Antena 3 e tutte le altre televisioni del Veneto siano nelle condizioni di poter trasmettere e di poter passare. Ancora non si conoscono canoni di servizio, né se da subito verrà utilizzata una nuova tecnologia, che di fatto rende impossibile utilizzare le televisioni antecedenti al 2017, scelta che penalizzerebbe ulteriormente le emittenti locali e diceti meno abbienti della popolazione, per i quali il sindacato chiede sostegni adeguati. Altrimenti rischiamo che le grandi televisioni nazionali occupano tutto lo spazio e le televisioni locali rischiano di non essere visibili. Uno dei casi gravi per quanto riguarda la provincia di Treviso è che ad esempio pare che tutta la zona della Sinistra Piave rischierebbe di non essere visibile molto a televisioni regionali. Insomma, siccome Zaia è della Sinistra Piave, ho scritto una lettera al Presidente perché prenda in considerazione la richiesta di andare al Ministero e porre con forza la necessità che l'informazione locale Veneta sia salvaguardata da questa trasformazione tecnologica.